Candreva, Candreva, cross... Gol! Un mese che non riusciamo a vincere mezza partita! Complimenti! Complimenti Inzaghi per i cambi! Complimenti Lukaku per la tua grande capacità realizzativa! Complimenti Lautaro per aver sparato in bocca al portiere un'occasione clamorosa! Complimenti alla squadra per la mentalità! Complimenti a tutti! E voi, in Champions, non c'andate! La squadra non merita niente! E i tifosi che sono a Salerno dovrebbero entrare negli spogliatoi! Perché, secondo me, capiscono molto più il loro linguaggio che il linguaggio politichese, retorico e cretino di questi pseudodirigenti! Questo capiscono, i messaggi chiari! Ma tanto faranno ora la solita tiritera Squadra compatta prima di Lisbona! Lucal Marotta parla con Inzaghi! E... ...